Torniamo! 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 Ecco la stu'criscia! Dai! Bravissimo! Torniamo! 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 Stai a morire! Stai a morire! Stai a morire! Stai a morire! Si cominciano impedenti di venire a cercare Un po' ci stanno certi personaggi Cosa? Mamma mia! Gioca! 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 Lu! Bella mano! Sì! Sì! Vai! Facile! Oh! Qui scavano! Oddio! Ma che hai visto? Bravissimo! Sì ultimo! Venga! No! 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 Fatti senti Luca! Socica! Oddio! Oddio! Niente! D'accordo con nessuno! Cazzo! Con nessuno! Che cosa? Rizzo! D'accordo con nessuno! No, Rizzo è qualcosa di fantastico! E' diventato nuovo, Camposarcone per 70! Vabbè! nooo eeeh eeeh ehi eeeh no no te fra le pite per la e da le pite gangiassi prendo un attimo i video che puoi eh Luca riprendi te va fa una cosa da giocatore divento cameraman nell'arco di mezzo secondo cazzo stai ancora registrando lo curto sul pallone Roberto va avanti in mezzo non trova nessuno Rizzo sulla battuta lo curto il tiro di sinistro non va qui c'è il fantastico Denigris Rizzo da solo contro Iker e segna per una palla sbagliata della bellissima Capocetti Denigris lo curto Rizzo la bordata di sinistro di lo curto impatta sulla schiena di Denigris 30 giorni di prognosi la grande rete di Rizzo Denigris per la bellissima David Capocetti Denigris che classe signori lo curto lo curto ne salta uno prova pure con Capocetti eccolo per Bobbo Rizzo sbaglia la triangolazione l'ultima parte liberato Rizzo liberato Denigris no viene intercettata ma va fuori che ha presato Jacomo via 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 vai Martino occhio piano Franco bravo Ja parti Franco c'è Franco eh c'è Franco là c'è lei c'è Franco arriva 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 eh primo però oh oh bravo parti torna 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 vai vai su raga se ci fai caso vai a Rizzo bravo 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 Fede bravo Fede vai provala scarica alza la testa Ja mamma mia ragazzi scusate mamma mia c'era il nodo libero ma non so posso fare passare non so c'era il nodo libero ma non so senti lo viene no 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 la dose è semplice però io vai Fede vai Fede vai Fede vai Fede vai piano 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 vai 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 punta 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 appoggio a Jacopo appoggio a Jacopo pal ho c'era a bu va Uno tra Federico, cioè scusa, uno tra Roberto e Jacopo, chiedi a chi ti ha il cambio a Roberto? Eh ho capito, qua devono giocare tutti, non è che? Oh chi è che esce? Quel coglione non vuole uscire, muoge meno, porco Dio! Dio lo, dove esce lì? Penso se aveva la cronaca da solo Mamma mia come sarà andato Mamma mia Boh Boh Due, dietro Vai corri, corri dai Oh chi è che deve uscire? Regà, oh, regà, oh Che cosa è questa? Dai eh E corri Franco, gli ho morto Vai, vai, vai Vai, vai, esci Sei il mato di Giallo Dai ladì Guardate se è presa in amica No, no, guardia, io non sapevi lì Io posso ci malvermi e perciò Ma fra, esci in attimo per rientri Oh Eh, in attimo Esci in attimo Dai, oh, dai il mezzo, dai eh Dai io Dai i gambi si fanno sempre No Ma calco Grazie